Che cosa succede se andiamo a utilizzare la truppa meno utilizzata di Clash Mini? Oggi lo scopriremo ragazzi perché vado a fare un deck con appunto questo mini che non viene utilizzato raga E' quel classico personaggio che lasciate da parte, lo lasciate lì a piangere in un angolino Oggi andiamo a provarlo e vi mostro che in realtà si può vincere con qualsiasi truppa di gioco anche se utilizzata di meno statisticamente Ed eccoci qua ragazzi in questo nuovo video di Clash Mini In attesa come sapete del lancio globale e del prossimo aggiornamento di gioco che dovrebbe portare due nuovi reali che sono stati leakati Ci sono dei leaks, vi ho fatto il video ieri e qui c'è la scheda Guardate la fine video perché è interessante raga, due personaggi del gioco nuovi, reali Raga oggi siamo qui, ho messo lui, è proprio lui ragazzi, è proprio lui Il Barbaro è una delle truppe meno utilizzate dal gioco, ok? E tra l'altro io ce l'ho solo con la prima abilità che come sapete ha questa cosa che ogni colpo gli aumenta la velocità di attacco Ma fino ad un limite di 10 volte ma con l'abilità Endless Rage non ho limiti E sta cosa raga è piuttosto curiosa Quindi andiamo a farci sta partita, non ho coin per fare le ranked ma andiamo raga a fare una cosa curiosa Visto che voglio farmi del male da solo andrò a fare una sfida con me stesso e mi farò, mi farò una ranked con il duello Ok in duello con signori il Barbaro Userò la contest e tutto l'altro deck che sto usando come sapete in qualsiasi video Ieri ho fatto raga un deck con il Monk fortissimo, guardatelo perché è stato un video veramente incredibile Un bellissimo deck col Monk, inaspettato Ragazzi giochiamo col Barbarello, vediamo che succede La prima cosa da fare è non utilizzare il Barbaro al primo round Una cosa che ho notato è questa qui Ragazzi sietevi comodi Vediamo cosa succede, forse la, forse perderemo ma è divertente scoprire qualcosa Con truppe che magari vengono utilizzate pochissimo Mi piace un po' sperimentare altrimenti raga è un po' noiosa la cosa Se usiamo la ulti di lui ci sta di brutto, c'è la bomba che scoppia quindi raga attenzione potrebbe costarmi la vita questa cosa Aiuto Cioè aspetta forse c'è la ulti, se uso la ulti forse qualcosa combino Wow La vinciamo con lo stregone elettrico Ma geniale Il Barbaro, come utilizzare il Barbarello giallo? Ragazzi è una truppa molto, molto fragile poverino Non utilizziamolo troppo in avanti Diamogli tempo di respirare un attimo perché non vogliamo che il nemico ci colpisca lui Ovviamente Non vogliamo che ci colpisca il Barbaro Quindi occhio Mettiamo l'arciere di qua un attimo perché ho paura che con quel bocciatore mi prenda l'arciere Uh, ci va alla grande direi Mi colpisce il Barbaro, oh poverino Vabbè ci sta, ci sta Vai col Barbaro che si fa qualche danno Attenzione si fa malissimo raga Si fa malissimo il mio Barbaro Purtroppo aiuto Si è fatto malissimo il Barbaro raga Il round 2 se lo prende lui Niente il round 2 se lo prende lui Ci sta È stato fortunato perché col bocciatore mi ha colpito il Barbaro L'unica cosa che non volevo mi colpisse me l'ha presa Stavolta il Barbaro me lo sposto di qua Vado di qua, metto il gigante scheletro finalmente Mettiamo quest'altro di qua Mettiamo il doppio, la doppia freccia al nostro arciere E quasi quasi anche il più uno di attacco Dai perché no, perché no Vediamo se il nostro Barbaro ha tempo di farsi questa No dai ancora Mi ha preso ancora il Barbaro raga, non ci voglio credere L'obiettivo è far sì che il nostro Barbaro faccia tanti colpi Che colpisca più volte il nemico Così arriviamo a farlo diventare super veloce Ma non è facile Non è assolutamente facile Però vedete che come mini, 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 mini pecca È molto più fragile di mini pecca Potrebbe funzionare E costa anche pochissimo Quindi ci dà modo di poter fare l'upgrade alle altre truppe Facciamo così Mettiamoci allo stregone lo zappone potente E poi ragazzi al Barbaro Gli mettiamo l'infinità Nell'attaccare Nel ricevere anzi Questo bonus nella velocità di attacco Ogni volta che dà un colpo Oh stavolta non mi prende lui Però raga lo Spear Goblin Raga povero, povero Barbaro ragazzi Povero Barbaro Povero Barbaro raga Povero Barbaro Se notate raga è difficilissimo usarlo Come è una truppa molto difficile Riesco a dare troppi pochi colpi Cioè tipo 2-3 massimo Ma mi è capitato di riuscire a darne di più Quindi secondo me questa truppa andrebbe un attimo rielaborata Secondo me Raga abbiamo vinto però più 5 E più 26 L'abbiamo vinta il Ranked Non ho più niente Cast Light Siamo contro la Contessa Qui già raga potremmo giocarcela bene Con il Barbaro su quella piattaforma ad esempio Quindi vediamo di farlo al prossimo round Visto che adesso la casella è troppo vicina Quindi non lo so Facciamo così E ci mettiamo un bocciatore qui davanti Vediamo se ci va bene E dopo dal round numero 2 Via con il Ovviamente il Barbaro Ok Attenzione 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 Contessa 6 contro la Contessa 7 Dovremmo vincerla abbastanza easy Questa Aiuto Bene Uh cavolo Aiuto Dai gigante scheletro Oh bravo No Uh benissimo Ma benissimo Ok Il gigante scheletro MVP di questo round Vai con il Barbaro ragazzi Credo tanto nel Barbaro stavolta No dai non può andare davanti così però No Quando è davanti così no Mi dispiace ma non lo posso fare Facciamo così raga Facciamo così Mettiamo il bocciatore di qua Stregone elettrico di qua E non abbiamo più elisir Va bene va bene Si può fare Magari lo mettere qua così Ok C'ha l'arciere di là Bene Ci può stare Intanto il Barbaro Attenzione Bravo il Barbaro che è Non viene attaccato da nessuno Siamo a due colpi No dai ti prego No dai Uh bella la bomba Oh Ok leggermente più veloce Bravo il Barbaro Oh Attenzione il Barbarino tattico Attenzione il Barbarino tattico Ha funzionato Raga ma la casella è sempre davanti Però no dai Non può succedere continuamente Sta cosa però Questa tecnica qua mi piace un sacco Mettiamo No Non serve L'abilità numero uno è completamente inutile Del nostro Barbaro Quindi no Ci mettiamo questo di qua Ups Ok lo mettiamo di qua invece Vediamo che succede Secondo me questa potrebbe andare Attenzione il Minatore Il Minatore è una bella truppa nemica Per far sì che il nostro Barbaro Ci vada addosso E che raccolga Diciamo colpi In modo da come sapete Ripeto Aumentare ad ogni singolo colpo La velocità di attacco Aia raga Quello stagone elettrico fa male Uh aspetta 6 contro 7 Vai E lesh Signori win 3 a 0 ragazzuoli Ok raga sembra che funzioni sto Barbaro Non è male Ultimo duello in ranked con il Barbaro Signore Abbiamo lo shield maiden addosso Ok Ok Gigante scheletro Perfettissimo direi Vediamo Vediamo Stagone elettrico Guardia Va bene Va bene Dovremmo vincerla easy questa Attenzione la guardia intanto che si ricarica la vita Con questa doppia vita Scoppia il bombo del gigante scheletro Attenzione Benissimo Down questo Down quest'altro E lo shield termina Adesso Let's go Let's go Win Win easy Win easy Con lo shield maiden Boom Round 1 Per dragone Rischiamola Rischiamola Voglio provare con il Barbaro Sulla piattaforma Intanto mi si è frizzata la cam Aiuto Vediamo che cosa succede Attenzione il Barbaro Intanto con la vita Attenzione il Barbaro Con la vita cosa combina Cosa mi combina il Barbaro signori No vabbè fantastico ragazzi Ci portiamo a casa La vittoria Ok 10 secondi Mettiamo l'upgrade a lui L'upgrade a lui E ragazzi Vai Let's go così Proviamo Vediamo che succede Attenzione Stregone di ghiaccio addirittura Ma raga Sulla piattaforma Ma è tanta roba No vabbè Ma quanto è figo Il Barbarello Sulla piattaforma gialla Ragazzi Che si recupera la vita Cioè è rimasto in vita Il Barbaro con la Contessa Avete notato? No non la posso vincere Impossibile No infatti era impossibile Se lo stregone elettrico Non mi lanciava la super Ragazzi Secondo me Potevo vincerlo Questo round Tra l'altro ho perso Un po' di tempo Perché mi si è scaricata La batteria Della telecamera Ah Peccato Allora Io farei così Ancora con il Barbaro Diamoli un sacco di supporto In questo modo Guardate Facciamo così Eh vabbè Si ottimo Vai proviamo Lo Shield Maiden No non riesco a fermarlo Va bene Se va in Shield Mi da tempo Al mio Barbaro Di attaccare Attenzione Attenzione E ancora vivo il Barbaro Attenzione ancora vivo E ancora vivo il Barbaro Ragazzi Ancora vivo il Barbaro No qui mi sono divertito Ragazzi Però l'ho rischiata Qui mi sono divertito Quella casa lì Troppo avanti È troppo esposto Il Barbaro È troppo esposto In questo modo Ancora una volta Non rischiamo Non la rischiamo Meglio di no Mettiamo un bocciatore di qua Il Barbaro tranquillamente Ups Qua dietro Lo stun di 3 secondi A lui mettiamo questo No Eh no dai Non ho avuto tempo Di mettere la stella All'arcere Raga rip Vabbè ci sta Disposizione perfetta Con il Barbaro Che non viene attaccato Ed è questo Quello che voglio ogni volta Aia si riflette i danni Si riflette i danni Si riflette i danni Bello lo stregone elettrico Bello lo stregone elettrico Aia 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 Aiuto No vabbè Non ci voglio credere Non ci voglio credere Bello Ci sta Ci sta Ci sta Meno uno per noi Va bene Ragazzi Non è male sto Barbaro Ci sta di brutto Grazie mille per la visione Signori Grazie mille per la visione Grazie per il vi piace Ditemi un po' Cosa vorreste vedere Nei prossimi video Raga di Clash Mini In attesa sempre Dell'aggiornamento Con un bel commentino Qua sotto Ci vediamo domani Alle 14 e 15 Ciao